E allora che si fa? Adesso vieni qua! Rubiamo il mondo da questa realtà, col tuo coraggio, inizia il viaggio. Parte il tuo domani da queste mani, basterà restare insieme poi. Per dare un senso alla tua libertà, ridai coraggio al tuo messaggio. Senza effetto sarà, fra cielo e terra, tutto cambierà. E si fa? Adesso vieni qua! Rubiamo il mondo da questa realtà, col tuo coraggio, inizia il viaggio. Parte il tuo domani da queste mani, basterà restare insieme poi. Per dare un senso alla tua libertà, ridai coraggio al tuo messaggio. Senza effetto sarà, fra cielo e terra, tutto cambierà. E si fa? Super Terra!